Adriano Galliani e Giuseppe Marotta, uno dei rapporti più lunghi del calcio italiano. Vi conoscete da tanti anni, vi ricordate la prima volta in cui vi siete incontrati. Partiamo dagli ospiti, prego Galliani. Mi ricordo perfettamente, anni 80, primi anni 80, quindi sono passati circa 40 anni, un Monza Varese a Monza, con qualche battibecco mio, tanto per cambiare con gli arbitri, per qualche rigore dato, non dato, ma lascio la parola al mio amico Beppe. Comunque sono 40 anni che ci conosciamo, credo che ci apprezziamo vicendevolmente e siamo legati da un solido rapporto di amicizie. Sì, altrettanto confermo quello che ha detto Adriano, direi intanto la stima reciproca, perché anche da parte mia, anzi direi che essendo un attimino meno giorni di me, io l'ho sempre visto come un esempio da seguire e quindi ho cercato, tra virgolette, di imitarlo. Credo che entrambi abbiano fatto una bella carriera, partendo dalla provincia, partendo da Monza, da quel, diciamo, la mia conoscenza con lui, proprio in quel Monza Varese di Serie B, arbitro lanese, e finì con una vittoria da parte del Varese allora. Da quel giorno vi siete incontrati tantissime volte, dal calciomercato alla Lega Calcio, ci hai raccontato un episodio in particolare? Ma un elemento, diciamo un episodio in particolare, no, posso dire che io ho frequentato, anche essendo poi sempre, ho gravitato tra Varese, Monza e Como, quindi Lombardia e Milano, quando Adriano era l'amministratore legato del Milan, negli anni, diciamo, 80 e 90, ho avuto modo di frequentarlo spessissimo, anche con l'amico comune, anzi molto più suo, che è mio però, è altrettanto una persona che stimo, che è a Riedobraida, e quindi ci vedevamo anche spesso nelle serate uggiosi milanesi, dopo le giornate lavorative magari si andava a mangiare uno spaghetto. Assolutamente sì, tantissime, ma è proprio un rapporto di vicinanza, di comunanza e di intenti, di tante cose, al di là dell'operazione di mercato c'è, credo, molte affinità elettive, quindi se vogliamo invece stare all'attualità più che al passato, in questo momento il Monza ha due giocatori in prestito dall'Inter, che sono portiere di Gregorio e difensore centrale Pirola, quindi c'è un buonissimo rapporto fra le due società e direi tutto molto bene. Adriano Galiani ha da piano gentile per la prima volta, lei adesso vede così questo centro sportivo, ma nel corso degli ultimi anni è cambiato tantissimo, che effetto le fa essere qui? Beh sì, mi ha fatto un pochino di effetto, però ormai sono tre anni e mezzo, perché abbiamo venduto il Milan nell'aprile del 2017 e quindi sono ritornato nella squadra per cui ti favo da bambino, in cui ero uno dei proprietari dirigente dal 75 all'85, quindi sono ritornato a casa, a Monza, e quindi adesso i rapporti con Inter e il Milan sono assolutamente alla pari, anzi devo dire che in questo momento noi non abbiamo nessun giocatore del Milan e ne abbiamo due dall'Inter, quindi ottimissimi rapporti con la società nerazzurra. Immaginiamo che giocare contro l'Inter le riporterà alla mente anche dei ricordi importanti, come giudica Inter e Milan che adesso vogliono fare di tutto per ritornare ai vertici del calcio europeo, così come lo sono state per tanti anni? Ne parlavamo prima guardando il centro, guardando il busto di Angelo Moratti e ricordavo con un po' di nostalgia che sia questo centro che il centro di Milanello sono state fatte agli inizi degli anni 60, quando il calcio milanese era assolutamente ai vertici europei, ricordiamo che per i non più giovani, negli anni 60 sia il Milan che l'Inter vincono due coppe dei campioni, incredibile, quindi in un decennio quattro coppe dei campioni, l'Inter ricorda una finale persa nel 67, cosa voglio dire, il Milan aveva fatto una finale addirittura prima nel 58, insomma le due squadre milanesi erano assolutamente ai vertici del calcio europeo e mondiale, mondiali per club e quant'altro. Chissà, da milanese adottato mi auguro che si possano rivedere i fasti del passato. Devo dire fra l'altro una cosa che fa onore ai tifosi del Milan e dell'Inter e della città di Milano, il derby di Milano è bellissimo, parlo di quando c'era pubblico evidentemente, perché non è considerata partita a rischio, a differenza degli altri derby nelle altre città italiane, i tifosi del Milan e dell'Inter vanno assieme e tornano assieme, indipendentemente da che abbia vinto una squadra o l'altra. Questo è molto bello, è molto nord Europa, è molto poco italiano e fa onore alla nostra città, ai due club. Ora il sogno e l'obiettivo ci immaginiamo? Essere quello di portare il Monza per la prima volta in Serie A nella sua storia. Assolutamente sì, è l'obiettivo del presidente Berlusconi è mio, io ho sofferto molto, ne parlavamo sempre prima con Beppe, perché il Monza nel 77, nel 78, nel 79, nel 80, quattro anni consecutivamente, o ha fatto spareggi perdendo o non è andato su per un punto o due punti, quindi ho sofferto tantissimo, me lo ricordo, spero di riuscire a portare Monza in Serie A. Per me, monzese, figlio di genitori e di nonni monzesi, sarebbe una soddisfazione grandissima. Direttore Marotta, per lei il Monza è stato un punto di partenza importante e adesso, dopo tanti anni, ritrova una realtà che pensa in grande. Sì, devo dire che per me è stata un'esperienza fondamentale nella crescita, prima perché veramente in Monza, al di là dell'essere stato fucina di giocatori, è stato che fucina di allenatori e di dirigenti, ecco, quindi io sono arrivato a Monza alcuni anni dopo la vicepresidenza di Adriano Galiani, però ho trovato una persona, diciamo un comune denominatore che ci lega, che era rappresentato dal presidente Giambelli, e quindi direi che con lui ho potuto crescere professionalmente e imparare tanto, tanto esperienza che mi è servita sicuramente nel futuro. Tornando un attimo alle vicende di mercato, mi viene in mente che a fine degli anni Ottanta, se non sbaglio, noi siamo in Monza, avevamo ceduto al Mina due portieri, Antonioli e Pinato, in contemporanea. E tre, se pensiamo anche ad Abbiati. Ad Abbiati, questo dopo però, ecco, sì sì, tre. Abbiati, noi lo prendiamo dopo nel 97, eccetera, ma insomma, tradizione dei portieri di Monza, è vero, quando c'eri tu abbiamo preso Antonioli e Pinato. Esatto, e poi un fatto che magari adesso tu puoi circoscrivere meglio, era che in quell'anno credo che Como avesse espresso un talento che era Marco Simone, e il Monza Gigi Casiraghi. Esattamente. Mi pare che ci fa un patto di non beligeranza tra Juventus e Mila, per non dar fastidio, e questa è una vicenda che... Ti favo per Gigi Casiraghi, ricordo a proposito questo particolare, mentre Valentino Giambelli, di cui ero stato vicepresidente, con lui presidente, mi chiamava, guarda che vado a vendere alla Juventus Casiraghi, prendilo tu, prendilo tu. I due giocatori costavano la stessa cifra, 10 miliardi uno, 10 miliardi l'altro, e noi in quel momento avevamo come prima punta George Weah, e mi ricordo fu soprattutto, io il cuore mi diceva Casiraghi e non Marco Simone, ma fu soprattutto a riedo convincermi che con Weah si sarebbe sposato meglio, in senso calcistico ovviamente, Marco Simone e di Casiraghi. Non avevo 20 miliardi per comprarli tutti e due, e quindi la Juventus prese Casiraghi e noi Marco Simone, e devo dire che fecero bene tutti e due, bene molto Casiraghi, ma bene molto anche Simone, quindi no. Esattamente, bravo. Questo era particolare. Questo sì, che non l'ho ricordato bene. È arrivata una vittoria importante per il gruppo Suning, perché lo Yang Su ha conquistato per la prima volta della sua storia il campionato, ci auguriamo che questo possa essere di buono auspicio, e il primo trofeo di una lunga serie per il gruppo. Sì, già nella giornata di ieri noi abbiamo chiaramente esternato i complimenti alla famiglia Zanga per questo prestigiosissimo traguardo. Ecco, io auspico e spero che sia Foriero anche di un ulteriore successo in casa italiana, perché sicuramente la famiglia lo merita, lo merita la società, lo merita i tifosi. Grazie. Grazie. Grazie.